. Nuovo amore per Amber Heard, chi è Kelly McNauggett? . I tempi del matrimonio finito malissimo con Johnny Depp sono ormai lontani. Eppure il fidanzamento col milionario Elon Musk è ormai un ricordo. . Per Amber Heard, giovane e provocatoria attrice, è giunto il momento di voltare pagina. E c'è chi giura che per lei sia già arrivato un nuovo amore. Un uomo lontano dallambiente televisivo, ma anche totalmente diverso dallex fidanzato. . Un nuovo amore, così diverso. Non si può dire che abbia le idee chiare in fatto di uomini, Amber Heard. Capace di fare capitolare Johnny Depp come neppure Vanessa Paradis, nonostante il lunghissimo fidanzamento e i due figli, era riuscita a fare, fino a sposarlo, dopo il divorzio e le accuse di violenza, la 31enne attrice texana si era innamorata di Elon Musk, il ricchissimo patron della Tesla dal volto pulito. . . Neppure con lui, però, fini bene. E Amber Heard si trovò ben presto di nuovo single. Oggi, le cose sembrerebbero essere cambiate. . . A due mesi di distanza da quella rottura, l'attrice che si trova in Australia per girare Aquaman, film basato sull'omonimo fumetto in cui interpreta la parte della sirena e supereroina Mera avrebbe conosciuto il muscolosissimo Kelly McNauggett. . 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